Ollà, sembra di voi, ma mi notano, non posso, è qui, ollà, tu hai la buona, ti arrivi? Oh, ma come è già? È qui? Un po' possibile, ti pensiamo per lui, eh? Ma io, lui, eh? Ma vai, lui, è qui, ma non è che io ho chiesto, ma non è che io ho chiesto, eh? Non ho chiesto, io ho chiesto, ma se tu dovessi fare una corsa, la domani, ti passi davanti. Oh, ma, ti piatti, io ho chiesto, ti 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 ho chiesto? Ti ho chiesto? Eh, prenda, prenda, per... Allora, stamattina, siamo partiti per dare una e due, per fare una balla come Adana, e... ...fai sempre l'enavando, Zor. Tu spieghi a me, un uomo. Ma, oddio, io ti ho sparito. Ma, uè, ma, 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 ma te lo subito che non sto... Ti ho chiesto? Ed è un uomo che ti ho chiesto, ti ho chiesto, ti ho chiesto, eh? Ma te lo subito che non ti ho chiesto con la urta di prendermi sui per la vanna. Ma, piantala lei, va! Ma non per me è ben in culo, no! Ziki, alla crotta di Vignero, c'è un buo! Oh, 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 ciccinino là, io fermo soppi in culo! Ah, guai! E' però strano, tipo, beh, come qui le altre culo che ti incontrano, ti ho amici, eh? Che per lunedì arriva torri, un, come potete afferter... Guardami che su lei che io fu a vecchio, io to' via adesso! Oh, 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 oh! Dov'è ferma me be in culo, ah! Accuta, ma, vedo che tale fermale è un po' qua, vie, eh? Uuuuuh! Quindi, se vinte ti ricordi, se vinte ti ricordi, l'u... M'è di chino a via sto occhiere, eh? Allora poca da minzek, poca da beie, poca di fium, e soprattutto poca di halabara lei. Quindi, stane, eh? Vinte poco la scusa che ti ha fretta i pei per far te studer e ci, che, ci, che, ci... Perché non ti incuria talman febio che su parte po' le gusse muscoli, Non ho capito, pur se ferme, quindi... Ma se vinte poco, eh? ...quindi... Vinte tutti insomma per così, eh? Ma se vinte poco, hai po' le gusse muscoli, eh? Eh, dai, pianta la legge... E non ti ha mai su lei, ah! Eh, no! Vinte, 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 vinte! Vinte, vinte, vinte! Vinte, vinte, vinte! Vinte, vinte! 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 Eh! Eh! Vinte! Oh, mamma, mamma! Qua! Vinte, vinte! Ma te ne ho proprio mangiato il mio completo, eh? Eh, ti ha vai po'? Oh, mamma, mamma, ma io lo mi non rischiusa! Eh, poi, 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 dopo, poi, 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 poi o... E tu sai? Plus, sans, 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 sans che soò... Eh? ...saint che sova il po' più serbio, dai, va! Eh? E io che mande è... la feca che non c'erano giusto, non c'erano un bel sandwich con la salsiccetta lignone la feca è stancata va? ah ok va, per pesce stiamo tranquilli fai un baga va, se mi fai un pesce bastanti, ma mi sembra te che ti dico come posso fare guarda te, che ne puro più me, guarda te per pesce va vai oh ma, ti fai, ma buzze se viene su va, fate ferma se viene su oh ma può buzze, vi dai là ma si può, si può, oh ma che perga di nuovo non è un po' possibile, ma per lì un po' mariem e damien, eh, il bello mio mio lomba e soprattutto, che fai con le marzappià eh, se vedi che io puro destino, eh, che devo fare ma, ah, io faccio una baga, va allora vi chiede un conchia che è presa di noi le baghe e, dunque, io, all'inverno, vero e passi, le saranno ben ditta eeeh, niente dooooh ma perché la cucarina gli arriva e io, no, basta me lo sapete, pah e pensi che, io, da cacca e torne, che totte le matè in un pochia e minuti di ginnastica ma rende da fare tu sei redda, redda come un bacchetto che male, che male eeeh eeeh e raggiungo le palizie ma poi ha pausa eeeh 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 e arrivo in a capo a mettere sì la zamba eeeh puoi già che andrei a vedere lo zoro eh l'umede sì anche a due mede ferie la dietro dimagrante e anche a donna me da menzì a me eh vero io anche mingerei e vero anche ride senza fiducia come se pareva lecchia lecchia pensi che pareva qua eeeh aah che fatica buonghi e naso oi vero menzì lo mattina zénon un tor de pan secco con una tassa di tè ha giù un pan secco e mezzo buone ma che ho già in toccato zetta beh due micchette e una bella quella di caffè la rì aah eeeh preva buone dooo eeeh e beh ha detto due fuori di salata ha giù le mento eh ma per il fuori la dieta ne presto un pè grelette e opposto di noi ne buttò una dureina pare un poca più rosse va bene e pensi che lo vedessi ancora due mezzetete una cicletta che parete si dica qualche chilo un poca più vitto ah dove c'è tala eh che c'è la lai tutta bella un cartai e dove un pape di gnanca netto però eh c'è la vecchia eeeh e mi viene ancora pensando devo pensare tutte le mattine avrò il peso da bella non devo mai fare il peso è sempre a fare allora non dò tenne a me che vado a farmerci e lai è la bilancia allora che te done fuori gli picchiobiettini poi ho in e poi donarlo fuori gli picchiobiettini I recritti, salire uno per volta. Che be', non è mai da male la bilancia, non proprio. Non conosciuto il pianeta, ecco, alla fine della sera, è la sfortuna. Già che se mi vissi e mi imporgo nono, basta avere che mi desiderio se mi vissi che attrapelemi a diretta se nono. Che be' è, che be' è, che be' è, però è, è sempre usato a dire, a prima che non è passata tutta la vera e nutrela, capri morti non è da fare sete grano sangue. La filetta piena di bucani, a passare a fare il ginastico. Pranghi! E se curva, mi fa ancora, c'è anche due fai d'erba di criti, mi ha levato un drastro che aveva una bambanella. C'è anche due fai d'erba di ginnastica. Ah, due sensei, non so più che bucani. Cattro canali a tirare i suoi, vedi tutti i suoi, e tu, ti ha fermato un po' di manco. Non coprei morti le mie barbotte? E adesso mi riposare in pesca. Oh, che l'anni! Ah, tu non so, tu ve li scelte. Tu ti avevi già mai dato per la titta, che la politica è un calcio. Ehi, tu! Ma che gran maledno che ti ha! Hai avuto! No, c'è parte a te, di cosa dovete do tre sui paradisi. Ma, te che è ripartando a Ciappulè, perché ha sentito i dei politici, ne parte. Ma, tu ci fa, mi ha te sentire. Ma li sente passi sui? Oh, io vi tutto fette. Ne passiamo sui, diretti. A canti e sempliare. Mi ha fatto bere se lo caffè e ha vecch' buon olis. Ah, buon, buon. Mi ha parlato bene, va? Ehm, mi raccogliere mio se pesi un corso di ginnastica orobica. No, tem, come si manda. Ginnastica erotica, ecco. O se non come due, la mia misa lo die, in corso di G.A.G. D, ho io nella biblioteca di una, e ho io, qui se vi ho. Giovanni, Aldo e Giacomo, le tre comici, per muo trino a no ginnastica, G.A.G., ma rende conto che be, che be, già che, l'udia vi è dommi che in quei mi raccomando. Sì, vado a fare l'altro. Oh, come viene apposta? Vado a fare la ginnastica. L'uomo, oltre che fare la ginnastica, oltre che studi le caglie alla cantina della cooperativa, li ho già mai fai. Se tre, li ho sei la ginnastica di tutti. Era questo? Professore di ginnastica, li tre fene a un. Eh, ti cochiò? Non ho capito niente. No, per me? Oh, ciao, niente. E, mi lo dì, è che la re, ciao, ma che fetti? E, che? Pum. Ma no, ma leccia a perdere, ma porra matarsi, ma no, ma, 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 Ma non ti senti un po' di merda di brazo, di sangue, della titta. E la titta è paziente, sai che mi dovrà perdere, mi manca di cuore. La titta è morta, la titta è morta, la titta è tordova. Ma non è finito che ti ha portato a me un ribellino. Ma io stai tranquillo, che ti fai stagione, ma senti che mi fanno. Ma sì, attacca a te. Ah, e me, e ti fai stagione. E che non mi fanno! E che mi fai stagione. Ma che ti fai stagione? Ma tu sei tranquillamente! Ma devi, ma io vedo che mi fanno, hai un po' di video con davanti a pesca, un po' di spazio che ti mostro perciò a fare gli esercizi? E le titta, la gazzetta, la ciclista... Oh, mi dimentate! Ma sei tranquillo, ma sei tu tranquillo! E se! Chi ti fai stagione! Sì, sai? No, no. ma chi ha attesa avvio in bicicletta c'è inserove che vuoi che fanno chi è pedalei? e così, come le fanno direi alle nove sei di chilometri, sei di chilometri e lei trova lì e lei sa ma, lì dì, ma tu non è cazzosa? tu non hai potuto andare ma, non sei forse a parlare di morte? ma no, ma l'hai sentito come è questa ma tu hai sentito, tu hai sentito, tu hai sentito tu hai sentito, tu hai sentito sai, sai, ascoltate, lei è una sicura io, lei è una maestra e non usano molto andesce come non è andata pieghe, gire, tutta andesce sai, lei è, lei ma, ascoltate, ma è una femmina? non è per te io ho trovato una femmina io ho trovato un caporal io ho trovato un caporal ma non, allora, ascoltate sai, sai, ascoltate cosa pensavo? ma tu ti pensi, tu pensi Alè, Alè, alè sai, sai Alè, tu ti appresti questa zona, Alè poi, Alè, buona seguiamo, Alè nel corso dai, Alè, Alè grazie 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 con il cuguita ginnastica speciale ma come si crie già 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 grazie grazie perché più che le non 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 sempre però non 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 però cosa non è che si perdeva la campagna di cilio è un po' di risultato, come comprengo un po' di risultato, è un po' di risultato ciao, 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 ciao bene, ma, dico te sei il po' di tibà, che è quello? è un po' di risultato, è un po' di risultato, ma è un po' di risultato come è la vita come è, come è e dobbiamo in questa vita, una persona orecchia non si può con la torta e io, ma non è giusto il picchiato, e poi va finissima la menta torta ah, un po' di risultato ah, un po' di risultato, anche se stai a il picchiato di cioccolato e poi va finissima la menta torta ah un po' di pulizia che lei ci sottose di frumato e si mettono tutto, e si mettono tutto. Alla fine si mettono 3 euro. E i kilo sono sempre dei miei. Ahahah, credo bene. Abbiamo tutti i miei buoni che ti mettono. Beh, perché so, fino a che dire che c'è la crema, se sono in culo, la mandiamo pomada. Non c'è la crema per il miei. Però c'è la crema pasticcera. Dopo vieni per il miei miei. Non c'è la crema. Non c'è la crema. E si mettono tutto come un mousseau. E si mettono tutto con la crema. E si credo che non ci mettono. Ma non c'è la dieta. Perché qui è una crema troppo piccola. E si mettono tutto con la crema. Ahahahah. Ma tu ne pensi che senti presente di una dieta che si mettono di dieta Dukan. Di che? Dukan. Cinque di chi? Duce. Ah, dopo le cinque ore, noi prendiamo tutto il tempo e lì si promuera. Non comprei. Bastaria vaienciò e te vengono come un grasso. Non. Ah, non. Non c'è. Non ho sentito anche qualcosa della dieta, non. E quando ti metti le croquette di zu. Non, ma non, ma non. Dukan. Il non è un nome del medico a qui lui libro. Che dì e me dicerde che mi ha detto che mi ha detto. Ma. Ma. Non ho capito davanti. Dukan. Il non è un nome del medico a qui lui libro. Che dì e capito. Buongiorno, mi sono trenta fia la dieta di minestru. Ah, sei lungo il lavoro. Passo le vi di tolomato. Stemcavo. Puliti le verdà. Ficchi un po' da zau, un po' da zau, un po' da zau. E avete sceglia? Mi perdi una duzento. Ma ce l'hai? Bonsoir, mais au lieu d'être mauvaise langue, vous devriez bouger vos jambes. On est, oui ou non, à un cours de gag. Oui, oui. Bon, ce soir on va travailler sur vos jambes, l'arbre, 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 l'arbre. E... Ah! Ah, je crois qu'avec cette méthode de travail, pas tout le monde arriverà la fin de mon cours. Oh, là, il s'agirà! Ah, il s'agirà! Ah, il s'agirà! Ah, io pensavo che facevamo zumba! Rien che zumba! Non, zumba, zumba! Non, c'è du gag, gag! Bon, maintenant... Ah, tu! Il s'agirà, te dire, qu'est-ce qui? Perbetesse t'opta poste? Oui. Eh, mi, aïe un incapitou! Il te dire, c'est un peu bimpejo de mene! Tu, fin qu'est-ce qui a vigné à se veille, que les collègues vous t'endrissent un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Tu, fin qu'est-ce qui a vigné à se veille, que les collègues vous t'endrissent un peu, c'est un peu, c'est un peu, qui a vigné à se veille, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu... Bonsoir, hein? Tout d'autres mangent, dis donc! Ma nous autres, ce sont des tels maestras? Eh bien, oui! Eh bien, oui! Vous allez payer plus de l'air et plus de l'Europe. Oh, eh bien oui! Moi, je suis une personne d'autre, vous ne voyez pas? Trainer! Eh bien, nous sommes un zélic, et nous vignons un peu en train! Traine? Pourquoi le train? Non? Ah bien oui, j'ai compris, mais non, ce n'est pas le train, c'est Personnel Trainer! Oh, parle-le! Maestra! Oui? Viens bien, depuis que vous êtes en train, 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 Je crois que oui, allez le prendre, s'il vous plait. Alors, vous prenez-le, non? De toute façon, on est encore en train, je ne peux pas aller! oh mon dieu, mais quels que c'est ça? Bon, ça va! Bon, ça va! Aïe! Vous pouvez le mettre? Voilà! Entre les deux, là, ça va, allez, allez-y, sinon on commence à prendre le… si ma maestro Maestra gioco di me di vestire come odano perchè c'è 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 C'est très moderno. E poi, non c'è un po' che dimentica. 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 Beh, ecoutez, maintenant, on va commencer. Tout le monde va s'allonger sur le matelas, s'il vous plaît, e voi, cercherà di fare la même chose. Allez. Encore un'heure, ici. D'accord? C'è un po' che dimentica? 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 Non, c'est pas là. De l'autre côté. Non, non, c'est pas comme ça. Vous voulangez de l'autre côté? C'est tout ça. Ça y est, on peut commencer? Oui? D'accord, maintenant, on va commencer avec les exercices des addominos. Adomino? Non, non, non. C'est pas comme ça. Ça y est, on peut commencer? Oui? on va commencer avec les exercices des addominos. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors, les addominos. En bas. En haut. En haut. En haut. Non mais... D'accord, ça suffit. Maintenant, on va travailler sur les bras. Va, c'est mieux. Ça va arriver. Les bras. Maestra. Mais vous ? Mais vous ? Carina, Julieta, Veneta? ma guarder-vous, guarder-ci c'est tout qui tombe allez rastodare, rastodare allez faites comme moi en haut, en bas, en haut, en bas ça c'est dur quand même bon d'accord, on va travailler sur les jambes et sur les fesses maintenant tout le monde va se mettre sous pied d'accord non, on va changer, va c'est mieux a 4 pattes sur les carponi ah, d'accord, nini biomele les carponi ma lo savi un peu, c'est que fontier pour telle non mais je suis capitée ici non mais c'est pas les carponi si vous voulez mettez-vous les chaussures c'est carponi pancia ah 4 pattes 4 pattes s'il vous plaît allez 4 pattes comme eux 4 pattes non mais c'est pas possible mais c'est pas possible il arrive pas cette femme 4 pattes 4 pattes mais non non 4 pattes mais alors qu'est-ce que c'est que vous êtes venu à faire là ? c'est pas possible non 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 mais non 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 bon Ciao! 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 Voilà! Voilà! Moi, je l'avais dit, eh? C'est déjà quelqu'un qui jette l'éponge. Eh oui, je l'avais dit, pas tout le monde arriverà à la fin de mon cours, eh? Excusez-moi, c'est un peu tard. C'est un petit peu de temps per faire le cours. Regardez, vous êtes rite juste un temps. Oh! Tout le monde! Cinq minutes de pause, maintenant! Ah, comment? Cinq minutes de pause? Non! Mais, va faire, eh? Non! 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 Oh! Oh! se vede qui tanto stai a me tu te dobbiamo te posso un po' più se puoi metti vieni qua, vieni qua 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 si fa male a propos del regime io preferisco la dissociata dissociata? hai cambiato di nuovo soggio? mi sembra essere tutti single ma la dieta dissociata vuol dire che fanno insieme le carboidrati e le proteine le proteine e le carboidrati hai capito? no 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 non 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 le proteine pesce carne io mangio tutto non 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 Non, 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 non. 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 Non, 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 non e arriva e fa, credo di me, vieni a mettere una corsetta invece di spiega che sei la mia amata, credo di me, credo di me è vero, è vero, ci può venire un infarto questo andiamo, andiamo, addio, addio ma poi il fatto? ah, d'accordo, dai, dai no, nonl, nonl sì no, nonl, 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 Nãol, ma poi quanto riguarda una cosa, no, nonl, nonl, no, nonl... che sembrava che sta inci quedi un prezzo con un pomerado. In tutto caso, se non ci si può, si può tornare a la tavola di giù. Au revoir. Frank! Porta fu un butto, sempre lo stesso. Grazie, eh? Oh no! Oh no! Oh no! Ah, eee, è fatto bene la vecchia? E' la vecchia? Anche a qualche sempre. Tutti i montagni di l'agite. la verdura, la femmina, mette la testa di fare la dieta del minestrum allora il minestrum al mattino, il minestrum al diner, il minestrum a merenda il minestrum a me, e mi sordi di regno il minestrum e lì per lei non è truffale, lì lì ma sì, truffe è niente, altro che truffe le mette il mattino, mette su un minestrum truffe è niente perché ha troppi di calore carote è niente, è niente, è niente in lavapè, nessuno hai qualche storia la mestra è giudice, è sempre la mestra è giudice è giudice, è giudice, è giudice è giudice, è giudice, giudice hai qualche storia è giudice, è giudice, è giudice non è giudice, guarda che pati, pelle e osse ma... un sacrificio che credo copi, pelle e osse se ti pelle e osse, vai e necce ma te pittore, mi sembra abbastanza pati, ne? no, è giudice, non è giudice, non è giudice un piatto, è giudice, è giudice ma che è capitato? non, non ci lasci a perdere mi ha fumato, ho trovato un po' per me e ho detto che fai ginnastica corso di ginnastica, po' sai? ma ora è di modo, tutti fanno ginnastica è di modo che la ricche mi sa che la fai già lecce va, va corso di ginnastica che fai metti ma se la ginnastica è? ma se, per me, ma se la ginnastica è? ma che... eh? ma che... mi sa che vittiremo dentro a comere fai il cuore è ma... ginnastica erotica ah, e allora? io le vorvo in fronte, in fronte in fronte, in fronte in fronte, in fronte in fronte arriva il pommeo, si senta sempre lei che è tatan, tatan, tatan ah ma lui è così che vuole, 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 vuole è l'unica baga che mette in su, sennò va dire che sono di più franco, in camion vuole, 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 vuole un bilic ne ha fatto arrivare, eh ma io vuole se l'è in avanti poi, vedete, degulò, degulò che finisce il pommeo oh Mimmi, ma, ma mi raccoglierebbe che il pommeo sembra abbastanza, eh eh, mi raccoglierebbe un po' di bevelo sono un po' di bevelo, sono un po' di bevelo ma è un po' di bevelo? no, 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 fissate, va, fissate anzi, ringerciate il buon giorno che mi vede ancora nel vostro mondo eh, voglio farlo, addirittura se l'orme o dimentiché pensavo benedetto, non è quella e la cosa non mi raccoglierebbe, non mi raccogliarne ma è la cosa no, ma è la cosa e non mi raccoglierebbe e mi raccoglierebbe e ti racconti alessi ma non mi raccogliare così ma non mi raccoglierebbe ma non mi raccoglierebbe ora mi raccoglierebbe se lo vorrei no, 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 non E' un punto che mi sembra che tu non ti riprendi te. Quindi, si vede bene come gli hai fatto la piccola della mia femmina, no? Gli ho fatto le sue moglie per la testa e campassero al mondo se per far mai il numero delle sue riviste là, i sangi e belli. E quindi, l'altro giorno io lì in Carchicanton, che è una clinica, qui in Umbria, più, in un'altra sera, ti gavano tutte le magagne, ti fanno perdere 15 kg, senza putrini e senza mettere... Giochi, bene come gli hai fatto la mia femmina, non fanno una silhouette, no? E quindi voleva andare? Giochi, giochi, come me, voglio fare, no? Trostante, egos oltre tutte le mie chemmine, tutte le mie lezioni, tutte le mie lezioni, tutte le mie lezioni, e alla fine, a parte le mie lezioni. Giochi. Devo dire sì che è il tuo male. Attrape. in qualche modo, non fai solo sincrono, non fai tutte le valigie, non si arriva, non ci so, non siamo in Russia, già andando. E buon, non c'è l'altro, Arrivà una bella clinica, un profilo della tisana, e poi ti ho visto che il dottoresse che sono là. Ah, ti ho visto? Allora, un lato positivo. Accanto arrivi che senti, case, case, beh. Se te l'hai impiccato, te la putti pregi, te la vedi, 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 te la vedi. Oioioi, te la putti attende, l'unica vaca che abbiamo avuto, è una purga, e poi non c'è, 4 pezzors, del canale. Mamma mia. E non c'è un po' di fette. Ti ho detto che tutti i giorni devono andare per i bagni, se ti ho avuto la tassa d'Ucesse, e ti ho visto che tu ti ho visto. L'unica vaca che puoi avere, è una tisana di verrà, che fiava la tiglia, e ciò che, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, arriva la mia famiglia, eh? Ma voi vi ho impagliato per l'unica. Se ti ho visto che se ti ho visto e ti ho visto, io ho visto che tu ti ho visto, non ti concentrano, non hai. E la mia famiglia. E, buono, alla fine, la può matare la mente male, che vive andata giù per la dieta, e la mia famiglia ha perduto 200 kg. Ehm. Ciò che, ma, può avere che, che le famiglie di retta, stessa, su? Ehm. Se, le famiglie di lavaggio integrale. Ehm. Colesterolo a zero. Ehm. Meno, nervoso, e che non è stato un contenito. Ehm. ma va! giocchi! ti paghi per te ti paghi? tre volte ti paghi e io paghi e paghi per me per me ma paghi per gente per domani per chi non ha ma io lo faccio devi andare a cagare mi sembra che caghi ti giochi a capri beh ma no però secondo me parelli faranno troppo ma troppo parelli proprio troppo e me la ce l'ho fatto mi hanno dei freddi ehi! ehi! aiuti! vieni per la corsa puoi prendermi per me mi chiedi no 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 tu hai detto aiuti a lei mia famosa avete sentito che devi venire per venire più migra beh beh resta la calo e ora vai se non vuoi venire basta ma che vuoi che si venisse così insieme a sé oh mio qui avete sentito una tabella di marcia il mattino un giro di champagne 40 minuti poi venire sul più reverso non andare e non tornare come se fosse un buon secco era la presena molto finché fuori del bar e 50 calorie Che belle straffi! In totale 3 ml di calorie per ora! Che galopata! Tu sei come quando sei andato alla testa? Sei morto? Non sei più morto? No, non sei più morto. Quindi senti bene che tipo ero? Tranquillo, sedentario. Un mattino avevo il mio caffè Milano e avevo sbriciato il giornale. Aprivi la parte delle carte. Soltare un aperitivo un semplice. Eh beh! E poi ho messo su Facebook e su Youtube e poi abbiamo bello e provato. In 3 mili ci sono più i miei napoli. Eh beh! Un po' come più. Ora, e chi mi dice? Un po' come più. Eh? In una fumola andiamo con l'utente di fare la mia zia. Prendete le barrette integratorie. Ah! Allora? Prendete le salampie in due. Allora? E' meglio in un strumento. Casi, casi che... Barrette e tante barrette almeno ci sono. Credo bene. Continua male con le tene a zerbagli, va? Ma... Ti... A me mi fai tagliare. Perché se no... Com'è te ne sentite brugliare. Guarda. Ti... Un altro culo. Buona continuazione. Ciao! Ciao! Ma va piano... Che è stato? Tu... Che poromo. Tu... Ti ho ancora più bimbe. Eh? Ah, io me lamentavo. Ma secondo me... Tu te salva ancora. Ti va sempre in casa. Alla fine, eh? Un'automatica. Casi, casi. Eh? Eh? Bene, colore. Eh? Tengo il cuo, va? Eh? Che cosa che ti dico? Mi sono fatto passando. Eh? No, vabbè. Buon giugno di fondo. Eh? Ciao, tieni una bella parte, va? Eh? Vieni un buon cuo alla faccia di un urso fermale. Eh? 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 Eh,alsato. Eh? Y'abbè? è un vantaggio dentro il paradiso e vi retto senza farci la terra ma adesso ti vedi la verità? l'amore o me niente ha visto i potessi le fumolle che cantellano e che plandrono là in palestra eh? ho sempre invitato? ho sempre proprio invitato ma qui peste senza menzetti non può essere le belle armonacche e tu? perde tanto tempo a cuore e sui per la montagna e sui per santa anni e sui per il fuor del bar tu ti perde le calorie ma non vuoi? il rincio di nuovo il tuo piede sale è tutta una gotta ti ricordi? vuoi le perdere le calorie? ma te... ma io ti fassi le muscoli? va a farlo feng va a tagliarvi se vieni un problema muscoli credo feng pochi d'ora è una baglia a me mi fa belle peina per le persone di d'ora di voi facciamo che sono belle pure direi che vanno lavorare vanno stesse da lì a tagliarvi a saccare il cuore e tutto e tutto e tutto e tutto e ando lì qualche ponte e sono in questa macchina crei una bella prima che ando per i perguizei se ma fa un bel peina ma fa un bel peina? non sa che è un pein puttale beh, bene, è venire che tu mi dimenticare io non ho più bella sì ma la comida è rosa e non sa che perché tu sa che è fuori di revengare se si accorge che buisiamo vuoi che non le sentiamo e qui buisiamo come un barbis e non sa che no, no, no no, no, no no, 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 no sono bella matta è tutta rotta cuore, ginastica ginastica, cuore e perché deve bere, bere le montagne deve, non be come un ve e mi già rende ma rende, ma si rende zona una fa nera che va a passare e sta a prendere ma no, no, è tutta rotta uку dai, dai, dai non si comprende vä due vuoi fare Paint perchè devejne non vuoi fare dinosauri non vuoi fare la pompa la pompa e io ho visto che io non mi devo vedere non vuoi bisogna Jenna mi vuoi tornare ciілito held perché vuoi andare a questa truccazione da mentire, perché mamma che fai? Vieni. Yogurt senza grassi e senza zucchero. Quattro foglie di salata mufeuia. Ma io ho un po' di soldi a Tommaso e che dentro, eh? C'è una fibra molto benessere in qualsiasi. C'è un po' di soldi. C'è un po' di soldi. C'è un po' di soldi, ma basta. Vado a fare un po' di soldi. Ora, io faccio un po' di soldi. Un po' di formaggio, faccio la formageria, e poi prendo 4 sanzette, e poi prendo un po' di soldi, e poi prendo un po' di soldi. C'è un po' di soldi, e poi prendo un po' di soldi, e poi prendo un po' di soldi. E poi, ah, una bella micola, una bella costata, ma mi funziona la spesa, e ho chiamato tutte le diete. Basta! Sei stufa! La neve è morta! Basta! Vedre! Vedre! La sua marina è pronti di rischio. Non ci risponde. E poi, si usa un po' di soldi. Ma qui? Non vero! E' sta piu' di soldi, ma come qui? Di soldi! Adesso! È vero! mi ricordo proprio che bella il fumale che ti è e che bella il fumale che io no ma la più bella ti è tu eh certo che se io sono due o due ore io mi ricordo delle belle fumale fai le belle fumale io questo che tu ho dato sei chi è oh che sei ne anche era che ti morta ci mette l'equipe la tinta brigando un brigando un brigando un brigando un brigando un brigando un cuomo vento un cuomo bua sera certo che se conto non si le delge la mano le cucchiai preparina eh se te 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 ne prende di pisa i pacchetti io da canna in betasilo retrato di nonno di mio nonno se non fa me tranquillo ma non fa farmi le sembie come se mi avviciasso ma come se mi ripurgiasso cazzosa no ma fa bene no 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 ma tranquille no no ma che è fatidio e cazzosa perché davvero no attendi conchio che non è tra di mio nonno davvero ma anche voglio andare spettacolo tra l'altro via che vado a vincere attenami io avevo niente idea e sono giro davanti a riferimento a riferimento a riferimento a riferimento a riferimento a riferimento e ora e ora fa in ginnastica e arrivo un po' a perdere i figli beh un passei le salampi in dì e alla fine ti esiste facendo lo dì e la dì voglio le salampi in ginnastica e il qu'è chi è i figli non daria gigi miranda luisa erminia daniela rachel giusi angela claudia mariangela carlo carla manuele che fa sedere matteo che arriverà roberto e michel sempre ci rima case suite merci grazie